La visione di questo video è fortemente sconsigliata a chi si prende troppo sul serio, non capisce l'ironia e trova sconveniente che una femmina dica le parolacce. Ah, scrivi canzoni! Ma dai, che bello! No, essere cantautori è una merda. Parola di cantautrice. No, non sto parlando delle tendenze depressive e dello sconquassamento interiore che alimentano la nostra arte. Sto parlando del senso di frustrazione e dello sconquassamento di palle che colgono quasi tutti quelli tra di noi che hanno delle sane mire espansionistiche in termini di pubblico vendita e notorietà. Sì, lo so che a noi piace tanto dire cose tipo A me non interessano la fama e il successo. Io non faccio musica per i soldi. Io scrivo per me stessa. Poi però passiamo alla nostra grama esistenza ad inviare demo a tutte le etichette discografiche del mondo, a pagare uffici stampa e a stalkerare la gente per farle iscrivere al nostro canale YouTube. Spesso ci etichettiamo come cantautori emergenti, un participio presente che suggerisce un certo dinamismo, un cambiamento imminente. E invece non cambia mai un cazzo. Siamo gli eterni sconosciuti, quelli che non si caga mai nessuno. Viviamo fluttuando nella palude melmosa dell'oblio, invischiati e semicoperti da una fanghiglia grigia che ci rende invisibili a pubblico e discografia. Col cazzo che stiamo emergendo. Sarà perché ci manca il talento? Sarà perché siamo particolarmente sfortunati? Sarà perché siamo circondati da improbabili personaggi che sfruttano i nostri sogni di gloria? Sarà colpa dei poteri forti che boicottano la nostra arte? Tutto questo lo vedremo nelle puntate di Il tragicomico mondo dei cantautori impantanati. Se siete musicisti o affini ci ritroverete tante cose familiari. Se invece non lo siete, scoprirete la parte invisibile del nostro mondo, che è molto meno figo di quello che sembra. seguitemi per vedere i prossimi video.